buongiorno a tutti cari amici di balling mania rieccoci qua per un altro video tutorial chiamatelo un po come volete su un determinato gruppo di animali tanto amati nei nostri acquari so che la volta scorsa vi è piaciuto molto quello sui sugli lps questa volta invece vorrei parlarvi un po dei crostacei adatti al nostro al nostro piccolo riff e quindi in particolare di gamberetti granchi e paguri che sono spesso tra i primi animali che prendiamo a parte i corali anche perché sono molto carini da vedere però anche qui insomma bisogna bisogna un po conoscerli per per cercare di allevare al meglio cominciamo con i gamberetti che cominciamo forse col più popolare gamberetto che è il lismata anboenensis che è il famoso gamberetto rosso con la striscia dorsale bianca ecco scusate questa volta non ho ahimè la mia operatrice quindi cellulare lo tengo in mano mi devo un po arrangiare anche per farvi vedere le fotografie di questi animali così li riconosciamo più rapidamente ecco per intenderci il il gamberetto lamboenensis è questo qua lo conoscete tutti un po perché probabilmente lo avete lo avete avuto e poi in qualsiasi negozio di acquari si vede allora cosa dire questo gamberetto tanto per cominciare è effettivamente un gamberetto molto robusto adatto ai principianti è un gamberetto molto vivace a differenza di altre specie che poi vedremo è un gamberetto che si muove spesso e volentieri in tutto l'acquario raccogliendo il cibo che diamo ai pesci spesso rompendo le palle cioè cercando di togliere il cibo agli invertebrati si muove ancora di più di notte è un gamberetto che si può tenere a coppie o in gruppo non è aggressivo assolutamente nei confronti di nessun animale dell'acquario non tocca assolutamente i coralli può invece essere predato da determinati pesci per esempio o crostaci più grandi quindi stiamo attenti ovviamente non mettete mai un gamberetto di questo genere con con dei pesci tipo balistidi o grossi labridi è il classico gamberetto pulitore cioè gamberetto che nell'ambiente naturale in gruppo con altri pulisce si da si da da fare forma questa specie di stazione di pulizia in cui i grossi pesci si fermano e si fanno diciamo ripulire dai parassiti anche aprendo spesso la bocca facendo entrare questi gamberetti in bocca succede per esempio anche i grossi predatori alle murene avete visto qualche foto filmato sicuramente dell'ismata che entra nella bocca della murena e le toglie letteralmente i parassiti dai denti ecco stiamo attenti questo comportamento lo fanno anche si può osservare anche in acquario stiamo attenti però appunto non metterli comunque con i predatori perché non si sa mai in acquario ci sono delle condizioni diverse da quelle marine e quindi insomma potrebbero verificarsi degli spiacevoli incidenti detto questo è un gamberetto che non ha bisogno di essere nutrito direttamente perché si nutre tranquillamente dei residui di cibo che cadono sul fondo è tra l'altro un gamberetto che si riproduce facilmente in acquario attenzione ho detto si riproduce facilmente mentre invece allevare le larve è un'operazione che lascerei agli esperti quindi diciamo che questo gamberetto produce uova e un sacco di larve che nel nostro acquario comune ahimè o per fortuna secondo i punti di vista diventeranno ottimo cibo per i coralli quindi in questa sede sicuramente non vi parlerò di come tirare su le larve dei lismata anche perché obiettivamente sarebbe una cosa disonesta da parte mia perché non l'ho mai fatto e mi piace parlare delle cose di cui ho esperienza comunque sia come dicevo è possibile osservare la riproduzione degli smate tra l'altro è anche molto facile formare le coppie perché perché gli smata sono degli animali ermafroditi nel senso che possono essere sia maschi che femmine anzi per essere più precisi gli smata amboinensis nascono di sesso maschile e crescendo acquisiscono anche i caratteri sessuali femminili quindi degli smata adulto possono comportarsi sia da maschio che da femmina e quindi in linea di massima mettendo insieme due esemplari possiamo stare certi che questi due esemplari se stanno bene e hanno condizioni ideali si riprodurranno come avviene la riproduzione beh tanto per cominciare vi accorgerete subito di qual è diciamo il maschio e la femmina di quali sono il maschio e la femmina di turno perché l'esemplare che funziona da da femmina presenterà a mano a un malloppo sempre più evidente di uova verdoline traslucide al livello del ventre qui per intenderci vedete spettare ecco qua a livello del ventre sotto nella parte sotto soprattutto quando il gambero contro luce notate questa masserella di piccolissime numerose uova al momento dell'accoppiamento praticamente non non ve ne accorgerete insomma vedrete semplicemente la femmina con con queste uova in genere partoriscono più o meno ogni 20 giorni come fate ad accorgervene state attenti soprattutto la sera quando le luci dell'acquario si spengono normalmente quando le uova sono mature verso sera appunto dopo un circa una mezz'ora più o meno abbastanza puntuali dallo spegnimento delle lampade la femmina si porta verso la superficie normalmente cammina scusate ho questo baffo di luce blu che non riesco a togliermi al mio acquario ecco qua normalmente si portano verso la superficie o camminando sui vetri magari un vetro posteriore un po sporco di aghi oppure attraverso una roccia quando arrivano quasi a pelo dell'acqua fanno degli come degli scatti col dorso con l'addome proprio per e vedrete e se riuscite a vederlo ovviamente se magari c'è una avete una lampadina la stanza non è completamente al buio vedete in controluce queste centinaia e centinaia di minuscole larve che vengono spruzzate in acqua e per un po' l'acqua proprio sarà piena di questi puntini traslucidi bianchi che si muovono con la corrente e i coralli che a quell'ora saranno già belli spolipati e faranno una bella scorpacciata tenete conto che ahimè a parte questo bello spettacolo serale la mattina dopo non troverete più traccia di nessuna larva ma accontentatevi di questo quindi per ricapitolare l'ismata amboinesi lismata o lismata insomma è uguale amboinesi gambero robusto facile da tenere attenzione unica precauzione mi raccomando la delicatezza di questi gamberi è che sono sensibilissimi alle variazioni dei valori delle condizioni dell'acqua quindi il momento più delicato è all'acquisto dovete acclimatarli goccia a goccia prendendo un po di acqua dell'acquario mettendo nel sacchetto poi togliendo e così via piano piano aspettate tranquillamente una mezz'oretta di questa operazione perché se voi aprite il sacchetto come si fa con i coragli e mettete il gambero in acqua molto probabilmente il gambero ora di sera è morto lo vedete non muoversi lo vedete proprio stecchire perché ha avuto un grosso sbalzo quindi acclimatateli questo vale per tutti i crostacei anche di quelli di cui parlerò adesso acclimatateli piano piano ok bene passiamo al al secondo gambero di questa nostra rassegna che è sempre un lismata è il lismata più bello in assoluto ed è scusate che non riesco ad aprire ecco qua ed è lui ovvero il meraviglioso gambero diamante gambero rubino lo chiamano in mille moti si chiama lismata debelius debelius è il cognome dello scienziato se non sbaglio tedesco quello scoprì è sicuramente il gambero più bello appartiene allo stesso genere del precedente è un gambero però molto 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 più timido è un gambero che ahimè pur essendo così bello spesso e volentieri capiterà che lo vediate soprattutto al crepuscolo di notte in piena luce sta quasi sempre nascosto spesso e volentieri attenzione non sempre questo è un gambero che a differenza del di quello di cui ho parlato prima dell'amboinensis forma coppie quindi c'è un maschio e una femmina quindi non è così facile non basta mettere due esemplari insieme per essere sicuri che si accoppiano un po come i pesci anzi spesso e volentieri potrebbero non sopportarsi quindi è meglio in questo caso se volete una coppia comprate già degli animali accoppiati in negozio li vedete perché stanno vicini in genere quella è una coppia ok modalità di riproduzione uguali solo che qui c'è sempre una femmina e un maschio quindi è sempre lei giustamente a partorire passando a per il resto le abitudini sono uguali semplicemente molto più timido vi fa un po incazzare scusate la parola a volte perché è talmente bello è anche talmente costoso peccato che in molti casi si fa vedere assai poco ok adesso passiamo a un altro lismata molto famoso non per la sua bellezza perché come vedete non è particolarmente bello rispetto agli altri ma per la sua utilità è il famoso lismata vundermanni che è quello che mangia le aiptasie ok anche qui molto timido anche lui anzi forse il più timido si vede quasi esclusivamente di notte vi consiglio anche lui si riproduce ermafrodita quindi facilissimo da riprodurre prendetene almeno non prendetelo mai da solo cioè ho le aiptase voglio un vundermanni che le elimini no perché quando sono da soli sono ultra timidi e anche di notte quando dovrebbero andarsi in giro a perlustrare a mangiare le piccole aiptase non lo fanno quindi i vundermanni se li volete per debellare le aiptase e in realtà è quasi esclusivamente per quello che si compra perché costano come gli altri ma sono più bruttarelli però sono utili prendetene due tre quattro insomma almeno due esemplari così sono meno timidi durante la notte se siete fortunati perché non se non tutti i vundermanni poi mangiano ai mele aiptase però per quanto mi riguarda mi è sempre andata bene non le mangiano subito non è che appena messi cominciano la prima notte no però dopo qualche notte le vedrete potete anche vederli nell'opera che vanno a pilucarsi le aiptasie e se va tutto bene nel giro di qualche giorno non avrete più un ombre di aiptasia quelle piccole perché quelle grosse non le toccano attenzione ok e abbiamo finito con i lismata ok adesso passiamo a no aspettate un attimo prima di chiudere con i lismata restiamo sui vundermanni attenzione c'è un gambero che somiglia molto al vundermanni e alcuni negozianti non molto onesti spacciano per vundermanni quello che vundermanni non è che sarebbe il rincocinetes c'ha pure un nome bruttarello è un gambero che somiglia molto al al vundermanni anzi addirittura un po più bello ora ve lo faccio vedere guardatelo bene allora questo è il rincocinetes lo vedete è simile al vundermanni ma si distingue perché ha intanto quegli occhioni grossi verdi che il vundermanni non ha e poi quella gobbetta ok a metà dell'addome questo è un gambero carino che però spesso tocca i coralli pizzica i coralli non mangia le eptase quindi mi raccomando controllate bene quando vedete il vundermanni che è quello che vi ho fatto vedere prima confrontate con questo se ha gli occhioni e la gobbetta così non prendete perché non è un vundermanni ok andiamo rapidamente a un altro genere di gamberetto sempre per essere un altro genere di gamberetto bellissimo ahimè mi sono dimenticato di scaricare la foto ma lo potete fare voi il famoso gamberetto arlecchino che è bianco con le macchie violette con queste antenne palmate è meraviglioso si chiama imenocera picta con l'h davanti imenocera chimenocera andatelo a cercare è il famoso gambero arlecchino come dicevo che per me non va mai comprato perché perché mangia esclusivamente stelle marine il negoziante a volte disonesti ce ne sono pochi disonesti però ci sono vi dirà che mangia poi un po di tutto invece questi gamberi se non hanno stelle marine da mangiare muoiono di fame ok mangiano anche le asterine le stelline che di cui spesso sono pieni nostri acquari peccato che le finiscono nel giro di pochi giorni quindi o siete in grado di fornirli continuamente asterine o addirittura stelle marine che forse non è il caso oppure questo gambero lasciate al negozio anzi secondo me andrebbe lasciato in mare quindi il minocera picta gambero al lecchino mangia stelle marine noi non lo compriamo ok bene passiamo rapidamente a un altro un altro protagonista crostaceo dei nostri acquari che è il simpaticissimo mitrax sculptus ok ovvero il granchio mangia alghe granchio verde mangia alghe lui ok qui sembra gigantesco in realtà è grosso come una monetina è un granchio molto simpatico molto vivace può essere tenuto in due tre quattro cinque esemplari i maschi si riconoscono perché hanno le chiele molto più grosse delle femmine in linea di massima questa è la differenza più macroscopica sono granchi oltre che simpatici molto utili perché sono prevalentemente erbivori vedete le chiele sono piatte non a punta fate apposta per strappare aghe in particolare per mangiare le aghe valonia che sono quelle a bolla tipo piccole biglie lucide che a volte sono invasive questi granchi sempre a essere fortunati perché un po' come i vundermanni per le tasie le fanno fuori se le mangiano molto volentieri quindi ve li consiglio come granchi per l'acquario sempre come granchi anche molto più belli dei mitrax ma anche molto più timidi sono i neopetrolistes ovvero i granchi porcellana che spesso vive guardate che bello vive in simbiosi con gli anemoni di mare può essere tenuto in acquario se avete un anemone è meglio ovviamente ma va in simbiosi anche con con i rodactis insomma può può essere tenuto molto carino sta sempre lì con il suo anemone nel suo rodactis o quello che è si chiama porcellana perché è proprio così delicato è molto bello da vedere poi a tutti gli altri granchi quelli spontanei che vi capitano tra le rocce attenzione se sono pelosi spesso e se hanno gli occhietti azzurri sono pericolosi ma questo è un altro discorso cioè vanno vanno tolti venendo ad altri crostaci simpatici vediamo i paguri cioè i classici crostaci che avendo l'addome mollo si sono naturalmente adattati a infilarlo nei gusci vuoti di conchiglie quindi a scegliersi queste conchiglie come case ecco tutti sappiamo ma è bene ribadirlo che appunto la conchiglia non fa parte del paguro è il paguro che se la sceglie e mano mano che fa la muta e che cresce cambia la conchiglia ne ha bisogno di una più grande in mare la trova in acquario non la trova quindi mi raccomando se avete intenzione di tenere un paguro fornite lì di tre o quattro conchiglie sul fondo un po più grande di quella che hai vedete che ogni tanto si 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 toglie la conchiglia si cambia se la mette nuova proprio come uno che si 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 mette si toglie un vestito tra i paguri più carini più adatti per l'acquario c'è il paguriste scadenati che è lui rosso rosso molto sembra enorme prima piccolo e poi il paguro che io francamente ho ottenuto poco e non mi sta neanche simpaticissimo perché io sono milanista e lui invece è il paguro interista che ovvero il calcinus elegans come vedete più interista di così se muore però a parte di scherzi animali simpaticissimi robusti mangiano quel cavolo che vogliono unico problema dei paguri non toccano i coralli problema dei paguri attenzione perché sono dei caterpillar loro passano e vanno qui con la loro conchiglia spesso se ingombrante se voi non avete fissato bene i coralli durante la notte soprattutto quando voi non potete rimettere a posto il corallo li butta giù ci passa in mezzo tra due coralli ne butta giù uno i coralli vanno uno dentro l'altro e magari crepano tutte e due per ustioni reciproche per colpa di questo animaletto qui quindi se proprio volete il paguro che ripeto un po il ruento per l'acquario di coralli prendetelo ma fissate bene i coralli abbiamo quasi finito spero di non avervi annoiato e poi avrò di sicuramente dimenticato qualcosa se avete curiosità qui sotto ne fate il vostro il vostro post passiamo ecco ovviamente ho perso la pagina del eccolo qua la pagina delle foto passiamo ai crostacei che invece sono dei pericolosi nemici sono quelle che noi chiamiamo le cicale di mare molto genericamente parenti delle cicale di mare che si mangiano trovati in pescheria sono in pratica dei crostacei predatori che hanno il difetto di trovarsi spesso volentieri nascosti nei cunicoli delle rocce vive sono molto piccoli queste specie di cui andrò a parlare sono piccole cicale di mare predatori che quindi che cacciano di notte sono molto sono fulminei predatori di piccoli pesci di altri crostacei e insomma quando magari la mattina non trovate più un gamberetto non trovate più un pesciolino spesso e volentieri può essere colpa del fatto che in una delle rocce vive avete una di questi animaletti ora vi faccio vedere l'odontodactylus scillaris che è il re delle 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 cicale di mare fate conto che queste cicale di mare sono più o meno così quindi anche molto belle tenete conto spesso sono lunghi un paio di centimetri ma non le vedrete mai perché stanno perennemente nascoste nelle rocce escono solo di notte proprio per cacciare per cacciare piccoli pesci addormentati spesso volentieri come faccio a sapere se ho una cicala è semplice durante la notte fanno un caratteristico schiocco cioè voi di notte nel buio della 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 casa sentite come delle come delle delle non so come come aspettate due noci non lo so proviamo un po' è una roba del genere vabbè insomma leggere di schiocchi che è la cicala che praticamente fa scattare quelle sue che le predatorie la leggenda vuole che le grosse cicale addirittura siano in grado di rompere con queste zampe predatorie con un colpo secco il vetro dell'acquario non succederà mai con le cicale che ci troviamo nell'acquario ma ahimè avere una di queste in acquario è una grossa piaga perché se comincia a mangiucchiare gli animali è chiaro che non potete tenere pesci piccoli come fare a pescarla ci sono le trappole potete mettere una tra apposita trappola per per ci sono trappole per per pervermi per crostacee insomma anche in acquario fuori si trovano la mettete con un'esca all'interno dell'acquario sperate che la cicala che è anche molto furba ci caschi oppure se avete individuato la tana della cicala perché magari vedete dei dei residui dei pezzettini di un monticello di residui vicino sotto una roccia vicino a un buco e avete capito che magari è lì dentro perché spesso volentieri magari mette fuori le antenne e se riuscite togliete quella roccia io direi povera cicala non ammazziamola l'ideale sarebbe mettere in sampo così ogni tanto io sono un buono con gli animali però mi rendo conto che può essere una piaga va bene ragazzi direi che per il momento è tutto sui piccoli crostacei dell'acquario alla prossima se avete domande mi raccomando ciao a tutti